Battere il Frosinone per cercare di dare una svolta al campionato. Il successo di Brescia è stato importante ma l'obiettivo è ora quello di dar seguito al 3-1 del Rigamonti per risalire la graduatoria. I tre punti li chiede la classifica ancora traballante ma i tre punti li chiedono anche i tifosi che sono in contestazione anche domenica prossima per questo. Entreranno in curva con 15 minuti di ritardo lasciando vuoto il settore centrale della curva. Tre punti con i Ciociari servirebbero così a rimettere un po' le cose a posto ma quella giallo-blu è forse la formazione peggiore da affrontare in questo momento del torneo. I laziali di Stellone guardano tutti dall'alto e stanno attraversando un momento positivissimo e di grande entusiasmo con una piazza che anche domenica farà sentire la sua presenza forte allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia. Ile Pescara affronterà questa delicata e difficile sfida ancora una volta ma ormai non è più una novità con diverse defezioni. Nilsen, Caprari, Brugman, Boldore e Fiorillo sono infortunati, Biarnason e Memuschai impegnati con le rispettive nazionali senza contare che Politano e Zampano si aggregeranno proprio alla vigilia della gara sempre per gli impegni con le varie nazionali. Recuperato dall'influenza Zuparic, probabile che Marco Baroni opti ancora almeno inizialmente per il 4-4-2. Federico Melchiorri alle prese con il mal di schiena stringerà i denti e scenderà in campo pronto ad assicurare ancora una volta il suo contributo in fatto di gol. Bisogna però come sempre nel calcio bisogna sempre continuare mai accontentarsi quindi il bene il bello e il brutto che c'è stato all'inizio di campionato non lo guardo penso solo alla prossima partita. Non sarà una gara facile ma dobbiamo dobbiamo iniziare a fare a fare risultati positivi qua in casa e venderemo caro alla pelle. La domanda è proprio questa. Come mai? Insomma fino ad oggi siete riusciti a fare più punti in trasferta che all'Adriatico? Ma non ne ho idea. Il calcio è strano. Poi in un campo come questo dove abbiamo un'arma in più che è il pubblico non me lo so spiegare. Speriamo di cominciare da domani a fare una serie di partite positivi.